Vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor, vinceremo, vinceremo, vinceremo il tricolor Mamma mia, sto ancora messo malissimo, però, però, amici di Youtube e di Instagram, buonasera a tutti qua Mamma che condizioni orribili, una roba veramente, insomma, comunque, comunque Buonasera a tutti quanti ragazzi, buonasera Insomma, 2-2, finita adesso la partita, insomma, nessun problema Nessun problema, se così sarà lo festeggeremo con i tre punti al derby Quindi non vale più la regola dei due risultati utili su tre al derby, dobbiamo per forza vincerlo Ma non ci interessa perché potrebbe, a parte che possiamo vincere tranquillamente il derby Però, io preferisco, ripeto, vincerlo in casa mia col Toro Dopo il derby, davanti alla mia gente, con l'invasione di campo Come abbiamo visto oggi, bellissimo il Leverkusen che ha festeggiato la Bundesliga tutti in campo Io sono uno legato ancora, io voglio vincere col Torino in casa Poi certo, se, se dovessimo arrivare a vincere, poi infatti abbiamo visto oggi che c'è la Noglu, comunque c'è un po' rimasto male Di Marco c'è rimasto male, l'hanno inquadrato Perché secondo me i ragazzi ci tenevano e ci tengono ancora tuttora a vincerlo al derby Perché sarebbe, come dire, la fine, l'incoronazione di sei umiliazioni che sarebbero fatali Perché dopo l'umiliazione della Supercoppa L'umiliazione del derby di Coppa Italia l'anno scorso L'umiliazione della, come si dice, dell'Euroderby andata a ritorno L'umiliazione del derby di campionato, l'umiliazione di quest'anno del 5-1 sarebbe veramente la sesta inculata nel giro di un anno e mezzo E sarebbe l'incoronazione, chiaramente, della seconda stella alzata in faccia Alle merde che odiamo di più e che non dovremo mai smettere di odiare Delle merde che si sono apparecchiati uno scudetto e oggi si sono apparecchiati una partita Che stavano anche rischiando di vincere e far saltare tutte le apparecchiature generali Perché il favore di Sassuolo gliel'hanno ricambiato oggi Il favore che gli hanno dato quando hanno vinto lo scudetto glielo stavano ridando oggi Quindi gli hanno ridato, anche se sono riusciti a bareggiarla alla fine Il Sassuolo gliel'ha comprata perché si vedeva tranquillamente dagli atteggiamenti in campo, dall'approccio Insomma, il calcio di oggi è sporco e puzza perché ci sono squadre come il Milan Quindi vincere la seconda stella in faccia a queste merde sarebbe veramente L'ennesima dimostrazione, l'ennesima vittoria del calcio pulito Stavolta non contro i Gobi ma contro questi qua che sono veramente una rogna, la fogna più sporca del calcio italiano Perché negli ultimi 4 anni questi sono peggio dei Gobi Però, comunque la partita di oggi Allora, l'Inter oggi non ha giocato bene Non ha giocato bene Perché comunque, a parte nel primo tempo, va bene sì l'occasione del gol L'occasione di Barellino al volo Il grandissimo gol annullato Su quella bellissima palla di Di Marco per il colpo di testa di Barelli Un gol fantastico, veramente Un gol cinete che sarebbe stato uno dei gol più belli della stagione Quindi, poi, anche l'occasione di Di Marco al volo Però, nel primo tempo, questo è stop Cioè, nel secondo tempo, non si è vista un Inter La solita Inter Si è vista un Inter, insomma, un po' più a risparmio Cioè, nel senso, si è vista A parte, vabbè, la punizione di Ciala Fra tesi che si procura il rigore Il gol di Ciala su rigore, poi basta È finita lì, cioè, nel senso l'Inter poi non ha fatto più niente Quindi, detto questo, il pareggio Si parla di un pareggio ladrato Perché stiamo parlando di un gol che andava annullato Quello di Viola Perché la padura gliela passa con il gomito, col braccio netto Una roba indegna Indegna proprio Vergognoso Come si possa vedere ancora una roba del genere In un campionato di Serie A con il VAR Come cazzo funziona? Io vorrei sapere come cazzo lo utilizzano Perché il VAR non è vero che non serva a niente Il VAR serve Ma sono dei coglioni quelli che lo utilizzano Perché non si può veramente Neanche l'ausilio al VAR Neanche il check Ma ci deve essere il cazzo di check Non si può dare un gol del genere Come quello che ha dato oggi al Cagliari del 2-2 Una vergogna clamorosa Un gol del genere Da convalidarlo in Serie A Ma come cazzo si fa? Che è una roba veramente allucinante Una roba allucinante Quindi stasera Già partiamo dal presupposto che non è ladrato Perché non è ladrato Certo che poi cazzo Alla fine l'Inter non è che poi Abbia fatto tanto nel secondo tempo Per chiuderla Quello sicuramente Biucana è entrato Alternato grandi giocate Aveva un po' di cazzate Soprattutto quella che gli stava Facendo prendere il gol Lì per perdere una palla rischiosissima Che lì Meno male che Viola Gli ha tirato in faccia A Sommers Sennò Il Cagliari aveva pure il match point Per il 3-2 Cioè Però tutto nasce da un gol Che andava annullato Scandaloso Una ladrata clamorosa stasera Faccio pure fatica a parlare Scusatemi se parlo un po' posterano oggi Ma perché C'ho ancora C'ho ancora Sto ancora di merda Adesso mi devo provare ancora la febbre Perché sto veramente La bronchite Purtroppo ragazzi La bronchite sarà ancora un po' lunga Antibiotico e tutto quanto Però Cioè ragazzi Non si può vedere Una roba del genere Il gol convalidato A Viola Puzza di merda Perché nella Marotta League Esistono gli assist di braccio Esistono i gol di Manu Di Pulisic Esistono anche gli assist di braccio Di Blapadula per Viola Una roba vergognosa Come cazzo si fa a dare un gol del genere? Comunque Quindi però ripeto L'Inter non è che abbia fatto una grande partita stasera Diciamo che l'Inter è un po' giochicchiato oggi Ma ci sta Nel senso Passi in vantaggio al dodicesimo E clima di scudetto E clima di festa Le merde hanno pareggiato Reggio Emilia Insomma era un'area Chiaramente Un'area Di festeggiamento Cioè ci stava anche giochicchiare Però anche nel tuo giochicchiare Oggi avresti vinto lo stesso Nonostante non hai creato tanto 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 Per vincerle E chiudere la partita Ma avresti vinto lo stesso Ma se poi ci si mette Un arbitraggio indegno Che non vede Una mano che è più grossa Neanche quella di Più grossa Cioè è grossa come quella di Pulisic Questa qua Forse è ancora più netta È una roba vergognosa Uno stop di mano La mano di Dios Cioè Con quel coglione lì di Mina Lì il difensore del Cagliari Una roba indegna Quello lì Un pezzo di merda Che prima si Va a inciucciarsi con Turam Prima va a bisticciare con Turam Poi tira una gomitata Sotto la spalla A Sanchez Che gli ha fatto male della Madonna Perché infatti poi Sanchez Ha corso male per tutto il secondo tempo Sto pezzo di merda E l'ha costretto anche a uscire dal campo A far entrare Arnautovic Sto Mina del cazzo qua Sto colombiano di merda Questa è proprio È la scuola quadrada È la scuola gobbi di merda Perché Mina Io lo vedrei bene al posto di Gatti Alla Juve Lo vedrei bene Proprio una merda uguale Proprio Cioè veramente E poi Causa il rigore Con una mano Aperta Mano clamorosa netta Cosa faccio pure da ridire sul rigore Che cazzo vuoi Ma vai a dormire Quindi ripeto Va bene tutto Un Inter che ha giochicchiato Però Alla fine Cioè Di grandi meriti Per chiudere la partita Non è che poi Non è stata la solita Inter Possiamo dire così Ecco Sicuramente L'assenza di Lautaro pesa Sicuramente Però Adesso non iniziamo Io Quasi quasi guarda Sono pure più contento Così non c'è quella pressione Perché poi ragazzi Voi dovete capire Che se lo vinciamo al derby Chiaramente sarebbe Ripeto Il coronamento Di sei umiliazioni Di fila E sarebbe Cioè Una roba che Proprio 24 aprile 2024 Sarebbe Proprio l'incoronazione Di Di sei umiliazioni E la fine Il funerale Della C-Miran Perché sarebbe Il funerale Della C-Miran Però Secondo me Questa è una trappola Che A cui ci vogliono Far cascare Perché Nel caso Non dovessimo Vincerlo nel derby Inizierebbero A rompere i coglioni A fare i titoloni A mettere Quindi secondo me È una trappola In cui noi Non dovremmo cadere Io preferisco Pareggiare il derby E vincerlo in casa Col Toro Non me ne frega un caso Io voglio vincerlo In casa col Torino Poi sicuramente Ripeto Se arriva il derby Non è che ti dico di no Però io Sinceramente Senza sapere Nel leggere Nel scrivere Io me lo voglio vincere A San Siro Davanti ai miei tifosi In casa Contro il Torino Con una bella Invasione di campo A godere Esultare Tutto il giorno Tutta la settimana Tutto l'anno A Milano Col pullman scoperto Non me ne frega un cazzo Con c'è la laurea Che piglia il microfono E urlate Fernandez Figlio di puttana E tutta E tutta la galleria Che gli urla Non mi interessa Io preferisco Vincerlo così Preferisco vincerlo così Con Davidino Frattesi In mutande Come a Verona Che sale sulla balausta Del pullman E urla E chi non salta Insieme a noi Cos'è E tutti giù dal pullman È un Milanista Pezzo di merda Non vedo l'ora Non vedo l'ora Non vedo l'ora Quindi ragazzi È solo Questione Di tempo So che qualcuno Magari sarà amareggiato Però ecco Adesso sto guardando Per esempio L'highlights Cioè il tiro di Barella È il primo tempo Poi il gol di Barella L'annullato Il gol di Turam Ma alla fine Non è che abbiamo creato Chissà di quelle occasioni Per Non è stata Ripeto La solita Inter Il Cagliari Comunque anche nel primo tempo Ha avuto un po' di occasioni Lo Vumbo Ha avuto due occasioni Nel primo tempo Una a contropiede Io me l'avevo detto Che il Cagliari Comunque Che mi sta sul cazzo Il Cagliari Che mi sta sul cazzo Da sempre Però Il Cagliari È una squadra Che Io ve l'ho detto Che non è che Verrà a passeggiare A San Siro Infatti Viene da sei risultati utili Questo è il settimo Tre vittorie Quattro pareggi Con questo Vedi Lo Vumbo Il tiro Centrale Il Cagliari È attaccato Non è che non ha fatto niente Io ve l'ho detto Che ragazzi Le squadre di Ranieri Le ultime giornate Sono tutte ostiche Ve l'ho detto Comunque ragazzi L'atteggiamento È stato sbagliato Perché abbiamo un po' Giochicchiato Stasera Ci siamo sentiti Un po' troppo belli E questo Poi l'abbiamo pagato Comunque A parte tutto Il tiro di Di Marco Nel secondo tempo Di Marco Grandissima partita Secondo me Vicinissimo al gol Sanchez Migliore in campo Sanchez Veramente Che partita Che ha fatto L'assist di Turam È un assist Come ho detto Nelle storie Un assist Che in pochi Riescono a dare Quella palla Che ha dato per Turam Perché Quella palla lì Se tu non la dai Tesa così E la dai un po' Più molle La prende O Mina O la prende Il portiere del Cagliari Scuffè Perché sarebbe uscito Subito Quindi Quella è una palla Da grande giocatore Da campione Quella Attenzione Quella è una grandissima palla Poi il recupero Che fa il 40esimo Che va a stroncare La ripartenza Del Cagliari C'è lì ragazzi Uno a 34 Quanti cazzo di anni C'ha 36 anni 37 C'è Un controllo del genere Sanchez Poi nel secondo tempo Va vicinissimo al gol Di testa Che si è immolato Lì da attaccare Cioè Sanchez Veramente Io ripeto Secondo me Un Sanchez Così Se rimane Ecco Se rimane umile Come quest'anno Che sa Comunque quest'anno Sanchez A me Deve essere Come atteggiamento Mi è piaciuto di più Perché non è Non ha quel atteggiamento Solito da spocchioso Da che metteva Prima lui Dalle preste Come quando diceva Sono il campione Leone in gabbia Quest'anno è più umido Lo vedo che è più Sposo di più La causa nerazzura Perché si vede Che il mister Ha imparato La lezione È cresciuto anche Come dire È più severo Il mister Quest'anno E si vede anche Dalle piccole cose Quindi Io Ripeto Se non riusciamo A prendere Gudmundson Io Un altro anno Di Sanchez Me lo farei tranquillamente Ma proprio Ma senza problemi Cioè uno che dalla panchina Ti entra così Ti fa la differenza Oppure quando parti di tolare Fa ste partite qua Poi Sicuramente Il giocatore è molto discontinuo Qua sto riguardando La mano di Lappaduma Come si fa Ma come si fa a dare Un gol del genere Ma è una vergogna Ragazzi È una vergogna Cioè come cazzo Si fa a convalidare Una roba Cioè Gliela passata di gomito Cioè Palla a mano Cioè è una roba vergognosa Vabbè Io tanto sto sudando Qua mi sa che mi è salita Pure la febbre Insomma Ragazzi Dispiace Sì però sinceramente Dai per quello che hai creato Non è che adesso Cioè Il pareggio Non ce lo Nasce da una ladrata Perché il 2-2 da nullare Però Avresti vinto oggi Avresti vinto Giochicchiando Creando meno rispettazione Avresti vinto Poi del resto Turam Bene Benissimo Primo tempo Secondo tempo Un po' Claudicante Dunfer È entrato malissimo Sbagliato tutto Centrocampo Barellino Il migliore del centrocampo Assolutamente Grandissima partita Mkhitaryan Appena l'ha tolto Prendiamolo 1-1 Frattesi è entrato Mi aspettavo Si procura il rigore Tanto di cappello Però pensavo Meglio Mkhitaryan Ciaranoglu Va bene La punizione Va bene il rigore Però Anche lui Insomma Un po' Tutti al 50% Oggi Un po' tutti Bastoni Sul gol Sul gol 1-1 Fa una cappella Clamorosa Bastoni Che si perde Shomurodov Sul 2-2 Fa la cappella Acerbi Insomma La difesa Oggi Non è che Mi è piaciuta Tanto Bissek Invece Mi è piaciuto Tanto Bissek Bissek Oggi I due gol Vabbè Quello di Viola Con lo stop Di mano Di Rapadula Lasciamo perdere Ma l'1-1 Di Shomurodov Cazzo Quello Non ti dico Che me la devi prendere Però figa Con le conclusioni Ravvicinate A media altezza Non le prende Non le prende Sommer Ma mai Sarà un suo limite Cavola Ci sta Ma infatti Ragazzi Non è che sto criticando Né Sommer Né Acerbi Né Bastoni Sto solo giudicando La partita Chiaramente sapete Benissimo Che io Sono uno che Difende sempre I propri ragazzi Perché Noi siamo interisti Noi siamo Gabbi di merda Che si sputano Nel piatto in cui mangiano Quindi Onore Applausi Ai 23 eroi Che ci hanno portato La seconda stella Milano Onore al mister Onore alla dirigenza Alle scelte Onore alla proprietà Onore a Steven Zhang Però sto solo Valutando la prestazione E oggi Sinceramente Un Inter Che Si è sentita Troppo bella Un po' giochicchiato Ma ripeto Calma Perché Lo vinceremo Secondo me In casa Colto io Sarà una festa Di tutta A Milano Nera Azzurra Sarà una festa Troppo bella Amala sempre Sempre Forza magica Inter Ciao ragazzi